Marco Velo, direttore di corsa del giro della città metropolitana di Reggio Calabria. Quale prospettive per il ciclismo in Calabria che da tanti anni manca con le grosse corse? Finalmente dopo tanti anni siamo tornati a gareggiare qui in Calabria, speriamo in un'ottima riuscita, il percorso è bellissimo, spettacolare e sicuramente domani sarà un nuovo inizio per un futuro di una continuazione su una splendida gara in questi splendidi posti. E' un'azione per stimolare i giovani soprattutto a questo sport che qui in Calabria, visto che mancano tante corse, non ci sono corse importanti, spesso sono costretti ad abbandonare questa terra per andarsene al nord. Sicuramente credo che lo scopo principale di questa corsa sia quella da traino, è un movimento che magari è un po' in difficoltà e queste corse servono comunque ad avvicinare, sono da catalizzanti nei giovani e speriamo, come ho detto prima, in un roseo futuro e che i giovani si appassionino a questo sport bellissimo vedendo questi splendidi atleti. Grazie